Nel messaggio rivolto ai partecipanti della 42esima edizione del meeting di Rimini, Papa Francesco esorta a ripartire dopo la pandemia senza egoismi ma con responsabilità il servizio di apertura di Alba Di Palo. Superare la crisi provocata dalla pandemia attraverso la fraternità e l'amicizia sociale che possono dare slancio a una ripartenza responsabile che allontana gli egoismi. E quanto sostiene Papa Francesco rivolgendosi ai partecipanti alla 42esima edizione del meeting per l'amicizia dei popoli di Rimini che terminerà il prossimo 25 agosto e che come tema dell'edizione 2021 ha scelto il coraggio di dire io, tratto dal diario del filosofo Kierkegaard. Tema quanto mai significativo nel momento in cui si tratta di ripartire con il piede giusto per non sprecare l'occasione data dalla crisi della pandemia evidenzia il pontefice. Nel messaggio a firma del segretario di Stato il cardinale Pietro Parolin e indirizzato a Monsignor Francesco Lambiasi, vescovo della città romagnola il Santo Padre evidenzia che la società ha necessità vitale di persone che siano presenze e responsabili. Senza persona non c'è società ma aggregazione casuale di esseri che non sanno perché sono insieme osserva Francesco. Come unico collante rimarrebbe solo l'egoismo del calcolo e dell'interesse particolare che rende indifferenti a tutto e a tutti. Bergoglio non si stanca di mettere in guardia coloro che hanno responsabilità pubbliche dalla tentazione di usare la persona e di scartarla quando non serve più invece di servirla. Dopo quello che abbiamo vissuto in questo tempo dice forse è più evidente a tutti che proprio la persona è il punto da cui tutto può ripartire. C'è la necessità di reperire risorse e mezzi per rimettere in moto la società ma c'è bisogno soprattutto di qualcuno che abbia il coraggio di dire io con responsabilità e non con egoismo comunicando con la sua stessa vita che si può cominciare la giornata con una speranza affidabile. La ragione profonda del coraggio del cristiano è Cristo e il Papa ospica che nella settimana del meeting organizzatori ospiti ne diano testimonianza viva.